Il CASF è il centro per l'affido e la solidarietà familiare del distretto 5 Padova Sud, con sede a Monsenice. È un servizio delegato dai comuni del territorio, con cui collabora nell'area della tutela minori. Afferisce all'unità operativa infanzia, adolescenza, famiglia e consultori. Il CASF promuove sul territorio la cultura della solidarietà verso famiglie che si trovano in difficoltà nell'accudimento dei propri figli, attraverso il dispositivo dell'affido familiare. L'affido familiare offre ai genitori l'opportunità di affrontare le proprie problematiche personali o di coppia, mentre i figli sperimentano un ambiente di crescita aggiuntivo che può contribuire a migliorare la qualità della loro vita e a sostenere la loro crescita. In questo percorso, sia i genitori, sia la famiglia affidataria vengono supportati dagli operatori dei servizi coinvolti. I compiti principali del CASF sono la promozione e la sensibilizzazione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio, l'ampliamento della rete delle famiglie solidali per formarle e accompagnarle nell'esperienza dell'affido. Le attività principali del servizio sono quindi l'informazione e la formazione, colloqui psicosociali, visite domiciliari e incontri di gruppo educativi e di condivisione tra famiglie solidali e affidatarie. Inoltre, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, organizza visite tra i minori e la famiglia di origine con educatori professionali specializzati. Al CASF possono accedere direttamente coppie, single, famiglie, che sentono di volersi mettere a disposizione per un progetto di solidarietà o di affido familiare. Il servizio CASF è composto da un'equip multidisciplinare, formata da un'assistente sociale, uno psicologo psicoterapeuta e un'educatore professionale. Grazie. Grazie. Grazie.